Due voci possenti al mondo, la voce del mare e la voce della montagna. La frase del poeta inglese William Wordsworth riassume perfettamente i simboli presenti nell'opera donata dall'artista bruzzese Nea Cetrullo alla direzione marittima di Pescara per celebrare il 154esimo anniversario dell'istituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto e il trentesimo anniversario della Costituzione della Guardia Costiera. Nel corso della cerimonia nel piazzale antistante la Capitaneria di Porto alla presenza delle massime autorità è stata inaugurata l'opera in maiolica dal titolo Dal Trabocco, la Maiella e la Bella Addormentata che unisce il mare e le vette della Montagna Madre e del Gran Sasso e i mezzi della Guardia Costiera. Alcune imbarcazioni, dopo essere salpate dal Porto Canale, sono state impegnate in operazioni dimostrative di salvataggio in mare insieme alla Società Nazionale di Salvamento. Madrina d'eccezione è Anna Trimarelli, la vedova 93enne di Antonio Di Sabatino, pluridecorato al valore militare che ha combattuto sia durante la Prima che nel corso della Seconda Guerra Mondiale. A fare gli onori di casa è il direttore marittimo, il capitano di Vascello Donato De Carolis, che guida la direzione di Pescara, che ha competenza interregionale per l'Abruzzo e il Molise e che ha ricordato le molteplici attività che vedono impegnati quotidianamente i militari della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera. A beneficio di tutti gli utenti del mare, a tutela di tutti quelli che sono gli usi civili del mare affinché il tutto avvenga in maniera ordinata, in maniera serena. E dal punto di vista della Guardia Costiera qui di Pescara non facciamo mancare il nostro contributo essendo presenti giornalmente, soprattutto in questo periodo che siamo in piena operazione ma resicuro. La nostra opera ha tutela di una serena fruizione delle nostre splendide spiagge, sia con uomini che sia con mezzi aerei e mezzi navali. E nel corso della cerimonia le autorità e la stampa hanno avuto l'opportunità di vedere come intervengono gli uomini e le donne della Guardia Costiera con motovedette ed elicotteri in caso di emergenza in mare. Inoltre il vicario dell'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Francesco Santuccione, ha impartito la benedizione sia all'opera del maestro Cetrullo che alla corona dall'oro gettata tra le onde in memoria di tutti i caduti del mare. Grazie per la visione!